Olli Magù di Bacoli, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti alla settima edizione del TAM. La partita inaugurale vedrà giocare Enal Barcentrale contro Esferia Agriturismo. Mettetevi comodi, comincia lo spettacolo del TAM. Il pallone comincia a rotolare, buon TAM a tutti. Luci, Daniele, allarga per De Martino, il destro incrociato ed eccolo qui. Il primo gol della settima edizione del TAM è un gol dell'ex, firmato Roberto De Martino. Mancino la perde, magnifico De Martino, Barone. Luci, il velo di De Martino che favorisce Daniele, il destro di prima intenzione. Palla sotto l'incrocio, 2-0 Esferia Agriturismo. Dario Daniele. Luci, Daniele, magnifico, morbido per Schiano Di Cola. Sinistro, Barone. Daniele, la indicazione ai compagni. Allarga per Luci, il destro. Barone, alla garella. Aquilone, prova il destro da casa sua e colpisce una clamorosa traversa. Barone, scotto di Santolo, accarezza il pallone, glielo sostituisce Aquilone, poi Mirone infaccata sul fondo. Spiano Di Cola, Luci, ancora per Spiano Di Cola, che si accentra e con il destro fa 3-0 Esferia Agriturismo. Grande triangolazione e grande partenza della squadra di Spinelli. Spinelli. Daniele. Recupera Mancino, Aquilone, di controbalzo. Trova il gol del 3-1, che bravo. Enzo Aquilone, prova a dare una scossa ai suoi. Spinelli. Daniele. A spazio, il destro, vola. Barone, gran parata, se a cabola, primera parte. 3-1 Esferia Agriturismo. Barone. Scotto di Santolo. Avanto, terza posizione. Il destro, la traversa. Piano di cola per Daniele. Traversa anche per l'Esferia Agriturismo. Magnifico. Piano di cola, pallone di ritorno. Magnifico, si accentra. Il destro. 4-1. Michele, magnifico. Triangolazione stupenda, ancora una volta. Intercetta, magnifico. Va da Lucci, sinistro. Di piatto, di prima intenzione. 5-1 Esferia Agriturismo. Il gol di Gianluca Lucci. Mirone, respingio di Martino. Riparte, magnifico. È tutto solo, magnifico. Si fa ipnotizzare da Barone. Spinelli. Va lungo per Lucci. Sinistro chirurgico di GL10. Lucci, 6-1 Esferia Agriturismo. È doppietta per lui. Mirone. Lui, Lucci. Al centro! Arriva Mancino. È come un falco, si avventa sul pallone. Del 6-2. Schiano di Cola. Quindi lui scoppola. La finta di Schiano di Cola. Il destro è la rete. 7-2 doppietta. Per Giuseppe Schiano di Cola. Che giocata. Scott di Santolo. Aquellone. La riconquista di Martino. Che trasforma l'azione in offensiva. E trova il gol. Dell'8-2 doppietta. Per Roberto Di Martino. Lucci. E poi arriva il tap-in di Di Martino. L'ha aperta lui. La chiude lui. Sul 9-2. Se accavò il partito, l'esperio agriturismo comincia alla grande vincendo 9-2.